Siamo a passo a passo con la Formula 1, perché... Ciao, sono Andrea Pasqualonna, sono un corridore italiano, come ben sentite. Faccio parte del Team Bahrain Victorious, squadra a livello professionale di categoria A, quindi siamo nel World Tour. È iniziata questa mia grande esperienza con questa squadra da quest'anno, dal 2023. Una squadra tutta nuova, una squadra che mi sta portando degli ottimi risultati, ma soprattutto abbiamo un gruppo che faremo sicuramente emozionare quest'anno e anche nei prossimi anni. Sono un brand ambassador di Tao Pach. Ho avuto modo di conoscere Fabio Fontana, prima ancora che inventasse questa tecnologia, soprattutto perché è un mio paesano, quindi siamo nati nello stesso paese, siamo due montanari. E nulla, una persona squisita, una persona dal cuore davvero grande, ma soprattutto una mente fenomenale, una mente davvero tecnologica. Se Fabio fosse qui, innanzitutto gli darei un grande abbraccio, perché siamo grandi amici e perché mi ha aiutato tantissimo in questi anni. E sono contento di averlo al mio fianco e lo terrò al mio fianco per sempre, perché è una persona davvero che mi ha aiutato in tutto e soprattutto mi sta regalando degli ottimi risultati. E grazie anche a lui abbiamo alzato l'asticella e siamo arrivati, diciamo, a un livello top a livello professionistico. Eccolo qua! Eccolo! Vi avete fatto una gran sorpresa! Non sapevo che eri qua, Fabio! Bello scherzo, campione! Grande! Grazie per le parole bellissime che hai detto! Eh, sono contento che le hai sentite allora! Guarda, veramente... Forte gioia! Mi fa piacere! Forte gioia! Campione, tredicesima stagione da professionista, con una delle squadre più importanti del mondo, il Team Bahrain-Victorious. Sì! Cosa ci dici? È una grande soddisfazione, io penso, sia per me che per te anche. Madonna, per noi! Mi stai seguendo da anni e sono contento, insomma, di far parte di Team Bahrain-Victorious ma soprattutto di far parte del vostro team anche. E niente, giustamente tredicesima stagione e le stagioni passano, qua si invecchia, però io penso, insomma, che... Mi sembra che con l'invecchiamento, questo lo posso vedere anche dai dati clinici, perché passano gli anni ma stare ingiovanendo, perché l'età anagrafica sua avanza, ma la sua età biologica, cioè del suo sistema neuromuscolare e del suo apparato cardiocirculatorio, stare ingiovanendo, cioè si porta otto anni meno di art rate variability, quindi... Quindi questo vuol dire che devo correre altri dieci anni? Esatto, è solo la carta di identità, ma a livello terapeutico stai tornando indietro, quindi potremmo piano piano tornare indietro, ho fatto una battuta prima, che potrebbe quasi quasi poi tornare tra gli under 23, voglio dire, in Zalp, in Zalp di Gerafior. Adesso ha un'età biologica di 27 anni, 26-27 anni nei controlli, quindi... In realtà non sono quelli gli anni, passano anche per me. Età biologica, è la prestazione con l'età biologica. Giusto. Allora Andrea, approfitto per chiederti di raccontare, a chi ci sta guardando, come TopHatch ti sta aiutando in questo momento? Ah sì, TopHatch a me innanzitutto non mi sta aiutando solamente in questo momento, mi ha aiutato per molti anni, perché l'ho scoperto quando avevo davvero tanti problemi, e grazie a TopHatch diciamo sono riuscito a risolverli, e quindi grazie, grazie Fabio, davvero grazie per quello che sei riuscito, grazie la tua mente a mettere in campo in questi anni qua, e soprattutto grazie anche a tutto il tuo staff, che ti sta dietro, che ti danno una mano giustamente, quindi bisogna davvero ringraziare tutti. Mi supportano, ma anche mi sopportano, sai che è importante. Eh sì, assolutamente. E nulla, in questo momento diciamo io lo sto usando 24 ore al giorno praticamente, lo uso sia in gara che nelle zone post gara, quindi scarico, e giustamente cambiando i punti, cambiando le posizioni, ogni TOT appunto facciamo questi interventi, o comunque andiamo a modificare i punti dove ne ho più bisogno, ad esempio oggi abbiamo fatto una visita, e abbiamo scoperto insomma che avevo un po' l'intestino tenue da focalizzare, e quindi abbiamo un attimo questo scopo di lavorare sulle carenze, perché comunque l'atleta per rendere al massimo ha bisogno di performance, ma per avere performance dobbiamo sempre andare a vedere qual è il punto più debole in quel momento dell'atleta, in questo caso dal punto di vista elettrico, voi in controllo dell'impianto elettrico, dei potenziali avvocati, il distretto più debole è quello che prendiamo sempre in esame per elevarlo, per portarlo alla media degli altri, e quindi non avere qualcosa che trattiene la performance. E quindi niente, continuiamo con questa terapia, ed è una terapia che sta funzionando tantissimo su di me, ma anche e soprattutto su altri atleti che in questo momento li hanno scoperti, e quando si scopre questa tecnologia si sente proprio un beneficio, e non se ne torna indietro, giustamente quando i risultati arrivano c'è poco da fare. Vita intensa, allenamento intenso, quindi c'è bisogno come non mai di recuperi intensi, cioè di recuperi più di fretta. Assolutamente, perché siamo in una vita davvero sfrenetica tutti i giorni, soprattutto noi atleti abbiamo tante gare, tanti allenamenti, quindi il recupero è la cosa fondamentale per farsi ritrovare pronti il giorno seguente, soprattutto quando si fa una grande classica, e dopo si deve preparare un'altra classica per la settimana seguente, i tempi non sono molti, e quindi bisogna davvero cercare tutte le, tra virgolette, scorciatoie possibili, e questa per me è una grande scorciatoia, perché i tempi di recupero si diminuiscono grazie a Taupaccia. E senza usare chimica, c'è nel senso che puoi spiamare il corpo, poi tenerlo in forma, puoi prepararlo, senza esagerare con gli integratori, eccetera, eccetera. Senti una cosa, mi hai detto una cosa che mi ha fatto molto piacere, riguardo le contratture muscolari, la puoi ripetere anche davanti alla telecamera? Sì, gli ho detto proprio prima, mentre mi stava visitando, che ho scoperto appunto che molte volte arrivano queste contratture muscolari dovute dagli sforzi sovraumani che facciamo, perché sono davvero degli sforzi terribili, e grazie al dispositivo fisio, io metto questo dispositivo dove sento che ho questa contrattura e vedo che nel giro di una notte o due notti si scioglie il muscolo e quindi la contrattura mi va via. Dopo giustamente ci vuole anche il massaggiatore che la sappia trattare, però con il dispositivo applicato dopo il trattamento del massaggiatore ho trovato questo gran beneficio. Bene, mi fa molto piacere perché gli sforzi per riuscire a fare in modo che una tecnologia così dia questi risultati sono importanti e poi il feedback è più bello a vedere che la si usa come consigliamo con lo scopo di ottenere il risultato. Magari abbiamo gli strumenti con noi e ci dimentichiamo di usarli, di posizionarli, di metterli alla prova quando serve. È vero. Andrea, prima trasferta con la nuova casacca in Arabia Saudita per il Saudi Tour. Quindi è stato un modo per innanzitutto gareggiare nel deserto, ma anche per provare in trasferta la prima volta il rapporto con la squadra, con i compagni, il lavoro di team. Sì, assolutamente. È stata un'esperienza unica perché sai, gareggiare nel deserto non è da tutti i giorni. Si parla tanto di Parigi-Dakar, però anche noi adesso stiamo optando tantissimo per queste zone che vogliono davvero crescere in un futuro e sicuramente cresceranno. È stata un'emozione unica perché sono stato accerchiato diciamo da una squadra top, veramente mi hanno messo a disposizione degli uomini giovani, ma soprattutto ho grandi talenti i quali ad esempio Jonathan Milan, una delle nostre promesse del ciclismo italiano e ne sentiremo parlare tantissimo di lui e che mi abbiano affiancato a lui. Questa è una grande opportunità per me perché gli sto dando, diciamo, i valori ma soprattutto gli sto insegnando quello che troverà in futuro. Questo è importante. Tu comunque gareggi da tanti anni. Sì. Quindi sei uno degli adulti del mondo del ciclismo. Certo. Quindi quanto è importante per la squadra avere una figura come te che possa aiutare anche gli altri a devolvere più in fretta? Assolutamente importantissimo. Importantissimo perché gli insegni, diciamo, i segreti delle corse, gli insegni la tattica. Infatti non a caso, diciamo, io in squadra sono l'uomo che comunica con i ragazzi tramite le radio e soprattutto anche con l'ammiraglia. Quindi sono un po' io il regista quello che vede come si evolve la corsa perché giustamente un corridore giovane ha poca esperienza e non riesce a capire i momenti cruciali della corsa. Invece uno che ha gareggiato per tanti anni nel professionismo riesce a capire quali sono i corridori da tenere d'occhio ma soprattutto quali sono le situazioni migliori e quali sono i punti cruciali da cogliere l'attimo perché si tratta di attimo in questo ciclismo per riuscire a cogliere le vittorie. E in questi minuti e anni in questa squadra ma anche nelle squadre precedenti questo ruolo l'hai gestito benissimo e tante vittorie sono state dovute anche al tuo ruolo alla tua scelta dei tempi al tuo trascinamento degli altri nel momento giusto regalando grande soddisfazioni al tuo fan club e a tutte le persone che ti seguono. Assolutamente sono cose che insomma dai con gli anni li ho imparati a gestire e diciamo hanno fatti di me insomma il personaggio che sono in questo momento. Nel gareggiare nel deserto quali sono stati i punti chiave? Cioè qual è stata la vera differenza con quel clima con la temperatura con i luoghi? Ma sicuramente c'è un fattore che è il fattore vento il problema è qual è che non essendoci non essendoci piante non essendoci natura non riesci a capire se il vento la direzione del vento e quindi magari tante volte ci trovavamo che avevamo il vento a destra giravamo un attimino per una strada laterale e lì così cambiava subito il vento e quindi lì così sai si formano quei tipici ventagli quei giochi di squadra e quindi non è stato tanto tanto facile anche per gestire la situazione però dai insomma ci siamo gestiti alla grande abbiamo gestiti anche una situazione difficile con un nostro compagno che era il capitano che si è trovato scoperto in un momento della corsa della tappa e infine dopo diciamo grazie al mio aiuto e all'aiuto di altri due compagni l'abbiamo fatto rientrare diciamo che è arrivato terzo in classifica quindi un ottimo risultato quando si entra nel podio diciamo di una grande corsa insomma vuol dire che il lavoro fatto viene ripagato ecco bene perfetto grande quali sono le gare in programma nelle prossime settimane e quali sono i tuoi vostri obiettivi sì allora beh adesso abbiamo iniziato con la campagna del nord quindi campagna del belgio al freddo però dai è una campagna che a me piace diciamo sono delle gare che mi emozionano la vera passione il vero ciclismo è proprio in terra belga e diciamo che è come da noi il calcio quindi sai è lo sport d'eccellenza e lì così in ogni giornata è festa quando c'è una corsa in belgio io penso che le persone che si prendano la giornata la giornata di ferie proprio per per seguire noi noi atleti ed è bellissimo e quindi abbiamo abbiamo un po' queste queste gare qui in programma nel mese di marzo e aprile termineranno con la Parigi Roubaix quindi la grande classica d'eccellenza del ciclismo del ciclismo belga ma soprattutto delle uomini da classiche e poi ci sarà un periodo di preparazione in vista del Giro d'Italia che sarà il mio grande obiettivo di quest'anno e verremo qui in Italia con una grande squadra verremo a dar spettacolo soprattutto ma soprattutto verremo a a vincere qualche qualche grande tappa e il nostro obiettivo è quello di cercare di portare a casa un podio in un grande giro che sia Giro Tour o Vuelta di Spagna però noi vogliamo insomma vogliamo venire al giro per cercare diciamo la vittoria soprattutto di tappa ma la classifica anche la classifica finale che è quella più importante insomma più ambita da tutti e penso che il team si è costruito per per uscire in questa grande impresa qualche settimana fa hai dichiarato che il cicchismo sta diventando un po' come la Formula 1 sì cosa intendevi ci puoi descrivere esprimere questo concetto assolutamente si basa tutto sulla tecnologia non a caso sei entrato te nella mia vita ma entrerai in tanti altri atleti sicuramente stiamo parlando di tecnologia perché perché stiamo perfezionando il tutto e per tutto per riuscire a raccogliere risultati siamo arrivati a un livello talmente alto adesso che ogni piccolo dettaglio fa la differenza o ti permette di vincere una corsa o perdere la corsa e quindi sai abbiamo studiato l'aerodinamicità con i vari con i vari body con i vari diciamo completini da bici i tubolari siamo passati dai tubolari ai tubeless in questo momento proprio perché hanno una minore resistenza comunque minore attrito e soprattutto anche con la strada e poi diciamo che la tecnologia ci sta aiutando tantissimo per superare le piccole imperfezioni non a caso voi avete introdotto questo per far sì che il corpo sia in equilibrio e che non ci sia una spinta maggiore magari con la gamba destra o con la gamba sinistra ma le gambe devono spingere con la stessa potenza e quindi hai capito siamo arrivati davvero a dei livelli altissimi e per questo diciamo ci stiamo avvicinando tantissimo a questo questo mondo della la competizione è negli atleti la competizione è nei brand che costruiscono le attrezzature la competizione è in ogni comparto del mondo bici mai più cioè sempre più simile a una performance anche di livello come quella della formula 1 mentre il ciclismo di tanti anni fa era tanto basato sull'atleta e meno sulla tecnologia la concorrenza è ampia e lo si vede insomma lo si vede forte sono molto d'accordo su questo piccoli insignificanti dettagli anche un grammo nel posto sbagliato moltiplicato per migliaia e migliaia e migliaia di pedalate a fine gara fa la differenza bravo andrei un messaggio da esperto per tutti i giovani atleti che sono in carriera e vogliono diventare professionisti sai che noi abbiamo anche la Zalf squadra da cui provieni assolutamente visto che ci sei passato un messaggio per loro e per tutti i ragazzi che da grandi vogliono fare Andrea Pasquero diciamo che se sono il loro punto di riferimento questa cosa mi fa davvero molto piacere ma penso di sì comunque perché io penso che un qualsiasi atletta che parte dalle categorie giovanili voglia ambire comunque ad arrivare al professionismo che è la massima categoria e che dire soprattutto credete in voi stessi credete credetici tantissimo e sognate tantissimo soprattutto perché i sogni devono se sognati nel modo giusto comunque se applicati nel modo giusto devono devono diventare realtà e se una cosa ci si crede davvero fino in fondo perché no e usate Taupec assolutamente assolutamente come ci state facendo assolutamente sono convinto che che la tua tecnologia e comunque la sento tutti i giorni nel mio corpo mi sta aiutando e mi ha aiutato e soprattutto mi aiuterà tantissimo nel nel proseguo della delle mie imprese tecnologia e metodo perché avere la tecnologia senza saperla usare e senza fare le corrette diagnosi noi siamo avanti non solo con la tecnologia ma anche nei metodi di valutazione per la scelta dei punti di applicazione è importantissimo quindi il professionista dal punto di vista clinico è molto importante per la scelta di posizionamento dei dispositivi non solo il dispositivo di per sé per avere un ottimo risultato Andrea come tanti altri fanno controlli qui molto frequenti per capire qual è il punto migliore su cui usare i dispositivi in quel periodo ecco e quindi questo abbiamo vissuto come un piccolo spot naturale su come sull'importanza di uso di questa di questa tecnologia adesso ti strappiamo una promessa vai sono pronto a sentirla una promessa per questa stagione vincerò una grande una grande tappa al giro d'Italia grande e se vinciamo ritorniamo qua bene e facciamo questo giusto per la maglia rosa ma no siamo convinti che faremo una grande stagione grazie Grazie a tutti.